Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca Perciò nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi E tu, Cafarnaum, sarai inalzata fino al cielo? Fino agli inferi sarai precipitata Chi ascolta voi, ascolta me Chi disprezza voi, disprezza me E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato Parola del Signore Lode a te, O Cristo